Un noto episodio Nan Yue, vissuto a cavallo dei secoli VII e VIII d.C., maestro zen cinese, di cui si ricorda un noto episodio. Mazu, un altro maestro, sedeva in meditazione quando Nan Yue gli chiese cosa volesse ottenere standosene così seduto. Mazu rispose che voleva diventare un Buddha. Allora Nan Yue si mise a sfregare un coccio contro una pietra e spiegò che intendeva lucidarlo fino a farlo diventare uno specchio. Nell'essità di Mao Tzu, Nan Yue replicò che altrettanto difficile era raggiungere la Buddhità standosene seduti in meditazione. Commento Anche la meditazione, che è un atto egoistico, la cui patria è la spiritualità orientale, merita un avanzamento, che è la preghiera.